Oggi abbiamo fatto una bella partita, sicuramente abbiamo sofferto forse un pochino più del dovuto però siamo molto contenti perché abbiamo trovato continuità, quindi per quello siamo molto contenti oggi ce la godiamo e già da domani preparano testa per martedì. Riccardo in prota mi ha messo una palla perfetta, dovrebbe essere un gol facile quindi sicuramente lì devo ancora tanto migliorare, devo trovare ancora la lucidità davanti alla porta però sono molto contento che la squadra ha vinto e sicuramente cercherò di poi aiutare la squadra con i gol. Sicuramente è bello perché abbiamo trovato la continuità che prima un po' mancava Sicuramente giochiamo più cattivo, siamo più cinici e quindi sicuramente questo ci porta a queste vittorie però come ho detto prima dobbiamo prepararsi già da oggi perché anche Spezia c'era un giorno di più di preparare la partita per martedì, quindi noi dobbiamo avere ora una doppia attenzione doppia preparazione diciamo, fare un bel recupero e trovarsi martedì sera prontissimi. Cosa bella è che intanto segniamo un po' tutti, che i gol arrivano una volta dal calcio angolo una volta arriva da un bel tiro, quindi è importante che comunque ci siamo. Sicuramente dico, sicuramente anche oggi potremmo finire la partita un po' più tranquilla con il mio gol che dovevo fare, ma comunque dico, è importante che siamo concreti e bisogna continuare così. Noi pensiamo a noi, cosa più importante ora è recuperare bene perché abbiamo fatto una partita difficile su un campo difficile, quindi prima cosa è recuperare bene e poi dobbiamo fare la nostra partita. Dico, speriamo, lo speriamo, sicuramente sono sicuro che troviamo San Nicolà che ci sostiene la gente, che vengono in tanti, che ci aiutano anche noi in questo momento di ancora continuare a questa continuità di partite vinte. Anche oggi sono venuti tanti tifosi, per questo sicuramente ringraziamo per questo sostegno e speriamo che anche a San Nicola troviamo una bella atmosfera e facciamo partita come la stiamo facendo in questi momenti.